Oggi finalmente si può svelare un segreto, la nonna sono cinque giorni che non dorme perché aveva perso il borsellino, mentre adesso l'ho trovato, con dentro i soldi, nella pensione. Dopo una settimana di ricerche, è stato molto molto intenso, abbiamo ritrovato... Perché uno dice, avrai aperto due cassetti, no, la nonna ha i nascondigli più strani al mondo, abbiamo dovuto ribaltare la casa così, la Luigina che non dormiva, la Luigina che non mangiava più, a un certo punto fa, sono entrati i ladri, io sono sicuro... Ma nonna, sono entrati i ladri, hanno chiuso la chiave quando... Sì, eravamo autoconvinti che erano entrati. Ma oggi è un grande giorno, segniamocelo. Sei contenta? Andiamo a festeggiare. Però non oggi, è ladri, noi non andiamo oggi a festeggiare, andiamo un altro giorno. Meno ma... Voi non avete idea di qua... Era diventata intrattabile. Vuoi dire qualcosa? No, perché non mi dimentico... Non devo più dimenticarmi, non devo più nascondere, no, non nascondo più niente. Quante ne hai pensate, sono andata di là, sono andata giù, sono andata su. E beh, mi era venuto un vuoto nel cervello, mi era venuto un vuoto, beh, adesso quel vuoto l'ho ricuperato. Ma l'hai trovati per caso? Hai detto, secondo me sono lì. Sono lì, sono lì, sì, mi è venuto. Ero qui tranquilla da solo, ho detto, guarda, vado là in quel posto là e li trovo. Adesso spegniamo e mi dici dove. Eh? Adesso spegniamo e dopo mi dici dove, perché io sono curioso. Ciao ciao! Ciao ciao!